Buongiorno amicissimi, buongiorno da Gran Canaria al nostro Bruno Battistuzzi, Marianna Maretta, Pecarsandro buongiorno a te, Maurizio Nanzillo ecco arrivato il nostro Maurizio, Gianni Scorzelli, Giuliana Campanella buongiorno, Pierluigi Salerni, Rosa Dortona sta guardando, Pecarsandro che bello oggi con voi, anche noi siamo felicissimi che tu sia in nostra compagnia, il nostro Roberto Molino, Cristina Randazzo, ciao Cri, Maurizio Nanzillo, c'è Enrico, buon pomeriggio, dagli nostri uffici alla regia il nostro Piero organizzerà come al solito tutta la parte messaggistica, in grado appunto di dare un po' di direzione ai tanti messaggi e ai tanti motivi che ci potrebbero portare, o perlomeno portano al momento un interesse vero e proprio nei confronti delle Canarie. al 373-774-2186 potete chiamare il numero magico di Pier, 374, allora 373-774-2186 il nostro Pier risponde per darvi qualsiasi tipo di informazione, Daniela Canali, ciao Daniela, Giovina Michele buongiorno, vediamo Alessandra Fischetti, ciao Ale, Antonio Geverini, Gerevini, Martino del Santo, Mariana Maretta, Giusy Morgera, Maurizio Uva, Giuliana Campanella, Rosa Petti e gli altri li ho già appunto menzionati all'inizio della diretta, attendiamo che i numeri siano significativi perché oggi diretta stupenda, meravigliosa da Porto Rico con 2, 3, 4 R come lo dicono appunto i Canari, in realtà è Puerto Rico ma i Canari devono aggiungere qualcosetta, Andrea Tardivo sta guardando, buongiorno a voi, siamo nel tunnel dell'amore, vedete, guardate quante cose vi insegno, quante cose vi insegno che non sapete delle Canarie, e non sapete che oggi le spiagge sono gremite, oggi abbiamo un purpurì di fotomodelle, ma quale il calendario della Pirelli, ma quale il calendario di Max, ma quale il calendario, oggi un vero e proprio calendario Canario, ce lo possiamo fare ad occhi aperti e dal vivo appunto dalle Canarie, da Gran Canaria per essere esatti, oggi faremo una passeggiata un po' lunga, ragazzi preparatevi, avete messo i costumi, vi siete preparati con l'olio abbronzante perché abbiamo un tratto veramente carino da fare, come vi avevo già detto, siamo a Puerto Rico, aspettiamo che i nostri amici si colleghino, è grande diretta oggi, guardate questo è il parco che accede alla spiaggia, vi faccio un giro, allora, vivere alle Canarie, entrambi un saluto per entrambe, il nostro appunto Piero che oggi commenta e risponde appunto come vivere alle Canarie dopo aver risolto i problemi tecnici che in questi giorni ci avevano un attimino messo in crisi, allora Giuliana Campanella, vediamo eh, allora la prossima volta amici porti, questo posto ancora non l'ho visitato, assolutamente sì, Clelia Rossi, quando vuoi, oggi avete, non oggi ma ad oggi, per chi è già stato, ha un'ampia gamma di scelta, per cui si può mirare a colpo sicuro, cioè si può tranquillamente anche nei tour decidere o anche in forma privata, veniamo a mangiare una pizza, veniamo a bere una birra, anche in forma privata, venire a fare un giro e appunto visitare delle zone che magari non avete visto, ecco il nostro Danilo Pedone, allora Rosa Maria Uccelletti, buon pomeriggio e buon fine settimana a tutti voi e ciao a tutti, grande sabato, grande oggi carichi al massimo, perché sulle spiagge è fantastico, è fantastico, ho scelto questa zona anche perché è un po' più al fresco, in realtà non si può fare una diretta di un'ora e passa tutta sotto il sole perché mi scioglierei, Angela Masciupinto, ciao Angela, ciao, metto sempre tanti mi piace sui tuoi posti e sulle tantissime acconciature, sempre bellissime che tu proponi alla tua clientela, complimenti veramente, complimenti sempre attiva, sempre bella, sempre simpatica, Veronique di Gabri di Malta, buongiorno per un semplice pensionato, è obbligatorio sapere parlare lo spagnolo, quattro parole, quattro parole, niente di particolare, un semplice pensionato ovviamente non vive più la teneretà, non è sicuramente la carlotta della situazione, o i ragazzi appunto che come il nostro Danilo Piedone è arrivato con la famiglia e tanti altri amici in questo periodo stanno facendo, le famiglie si stanno muovendo parecchio e loro ovviamente sono delle spugne incredibili, cioè irraggiungibili, per quello che riguarda invece le persone da pensionati, se la possono cavare, tutti noi ti diremmo però insomma lo spagnolo un po' lo devi imparare, è vero, è vero, è vero, è vero, ci sta, ci sta questo tipo di discorso, qualcosa di fatto devi impararlo, ci sono dei corsi, facciamo i corsi noi, guarda che costano poco, il nostro Maurizio Lanzillo l'ha già finito e così altre persone che sono in diretta ora hanno già fatto questo corso, quelle quattro basi, cioè per poter andare un attimo a fare la spesa, salutare, dimostrarsi educati, non arrivare a chiamare il piatto tipico spagnolo paella, ma magari saper che si pronuncia paella, insomma due cose che ti mettono comunque in condizioni simpatiche, cioè ti poni, ti porgi in un modo simpatico nei confronti delle persone che ti ospitano tutto sommato, è una questione anche un po' come posso dire di rispetto, però detto questo, tranquilla, non c'è nessunissimo problema, un semplice pensionato, che poi un semplice pensionato non lo si è mai, perché il pensionato è il candidato migliore per venire alle Canarie. Allora, Graziano, Gelfi, che bello, allora, Mattia Russolillo, non conosco, allora, Danilo Zullian, buongiorno, buon sabato a tutti, Rosapetti a tutte e due, giorno Andrea e famiglia, Andrea Tardivo, saluti da Andrea famiglia, un grande abbraccio a te e alla tua famiglia. Adesso vi faccio vedere il porticciolo di Porto Rico, e poi se ce la facciamo, andiamo a farci un chilometro, due chilometri, chi lo sa, fino a quando le nostre forze ci reggeranno, andremo a vedere magari il mare dall'alto, e se proprio, proprio, proprio ce la dovessimo fare, perché siamo in una giornata incredibile, perché chiaramente avvicinandosi alle spiagge, e vedendo tutti gli disabili, ovviamente ci sono, questo è rivolto ai maschietti, cioè qui in una situazione di questo genere, degli ormoni vi abbandonano, prendono, escono dal corpo, e se ne vanno a cazzi loro, nel senso, oggi è sabato, e domani si ripeterà ancora, assolutamente, tutta questa visione meravigliosa delle persone, che in realtà era un omaggio più alla bellezza femminile, che non a quella maschile, però insomma facciamo finta di niente, cerchiamo di coinvolgere tutti, per una questione di par condicio almeno, guardate, Porto Rico arroccata, alcuni impazziscono per Porto Rico, la amano tantissimo, Porto Rico prevalentemente da vedere di sera, è chiaro che le immagini servono a poco alla sera, devi essere qua, Porto Rico è la classica città di mare, al quale noi siamo abituati, con le nostre tradizioni italiane, alla sera colorati, locali da tutte le parti, luci azzurre, verdi, rossi, gialle, bello, aperto da tutte le parti, si balla, abbiamo anche il Mogarmal, che è il nuovo centro commerciale, che si è aggiunto al vecchio centro commerciale, senza andare a soffocarlo, ma reggono tutti e due un lavoro costante, nonostante questo periodo un po' particolare, perché ovviamente c'è una specie di diluizione sugli arrivi appunto dei turisti e del turismo, vedete il bagnino sul suo seggiolone, che qui alle Canarie si chiama Soccorrista, in realtà il nostro Andrea Asietti ha fatto per tanto tempo questo lavoro, in acqua è assolutamente pieno di gente, c'è un po' di gente da tutte le parti, per strada, così tanto per invitare qualche d'uno a dire ma non si vede nessuno, non c'è nessuno, in realtà noi non ci occupiamo molto di quello che sono determinate incomprensioni, come posso dire, comprensibili e tra l'altro incomprensioni magari che i nostri amici potrebbero avere nel vedere le dirette. Oggi si capita in una zona dove in realtà troviamo pieno da tutte le parti, perché è sabato, durante la settimana ovviamente tutti lavorano, il turismo sta iniziando ora a ripopolare le Canarie e sarà graduale la ripresa per cui al sabato e la domenica abbiamo tutti residenti, residenti inteso non soltanto persone Canarie ma intendo proprio residenti italiani, tedeschi, francesi, inglesi, insomma tutto ciò che in realtà siamo abituati a vedere alle Canarie. La nostra Iana del Rey, ciao Iana, ciao, buona giornata. Daniela Vezzoni sta guardando allora Giussi, Morgera, quante sedie della suocera? Sì eccole, vedi, Cuscini, noi li chiamiamo Cuscini della suocera, vedi ma hanno tutti gli aghi che vanno in giù, vuol dire che Pierre ha già preso sua suocera e glieli ha fatti provare tutti, perché se no sarebbero belli ispidi con gli aghi in su, questi invece hanno gli aghi in giù, probabilmente Milena deve essere già venuta a allora a provarli Gianvittorio Merlo, buongiorno Enrico, io farei due passi sulla passeggiata, vediamo se lo trovo ancora, se no l'ho perso, allora io farei due passi sulla passeggiata verso Almadores, mi ricordo un panorama meraviglioso, ma è la strada esattamente che stiamo facendo, in realtà il due passi è tutto tutto da dire, nel senso che c'è un bel pezzettino, adesso cerchiamo di prendere le scale che ci portano fino in alto e vi faccio vedere appunto un panorama meraviglioso, questo era l'intento, sempre forze permettendo, ovviamente, noi il venerdì sera e il sabato sera senza fare grosse cose, ma ci riuniamo fra amici, ieri sera eravamo dal nostro amico Nello e dalla nostra amica Eliana a fare così amichevolmente una partita a carte con tutti gli altri amici, eravamo una trentina, ci siamo divertiti, abbiamo bevuto un po', insomma le 4, 4 e mezza di mattina, qui, se sono serate disegnate al divertimento, le 4 di mattina arrivano molto velocemente, non ci vuole veramente molto, per cui, cosa vi devo dire, a sabato mattina non è che siamo super freschi, ma la tentiamo, qui c'è una bella salita di gradini, se vedete che tutto sommato mi manca l'ossigeno, qualcuno che abita in zona mi porterà le bombole, adesso vedremo, non mi avvicino troppo alla spiaggia, perché se no dopo vi scoppiano gli ormoni e non posso permettermi di perdere appunto spettatori o amici che stanno guardando la diretta, intanto fate tranquillamente domande del tipo che volete, cioè chiedete tutto quello che volete, non c'è nessun problema, laddove riesco a leggere perché c'è un filo di ombra, mi fermo e vi rispondo tranquillamente con tutta la buona volontà. Oggi veramente una diretta particolare, vedremo giustamente il nostro amico ha sottolineato che seguendo appunto il passeo verso Amadores, tutto corretto quello che ha detto, andremo a vedere una vista dall'alto veramente mozzafiato, molto bella, oltretutto questa è una zona dove la parte di pietra lavica è chiara e rosa per cui anche i fondali ne risentono in positivo di quello che in realtà è appunto l'effetto scenico dell'oceano. Intanto sto respirando, ce la faccio a respirare, ho fatto tutta la scalinata in un botto, guardate, vediamo, intanto che faccio finta di farvi vedere il porticciolo, respiro, mancano solo cinque gradini, ce l'abbiamo fatta, eh ma non sono finiti i gradini, continuano là, guardate che meraviglia, queste ragazze sono le canarie, queste sono le canarie, uff, come posso dire, così, da sfruttare tutto l'anno, 12 mesi all'anno, la grandissima differenza, pur facendo paragoni con le nostre bellissime zone, perché tutte le zone italiane sono belle, le zone di mare sono una più bella dell'altra, in realtà dobbiamo dire che 12 mesi all'anno avere la possibilità di utilizzare tutto ciò che vediamo, acqua, spiaggia, imbarcazioni, sport all'aperto, insomma, ci sono una, veramente, una serie, non lasciarci mancare un bel vedere anche, perché chiaramente sia per i maschietti che per le femminucce, qua la gente vive in costume, è anche abbastanza fisicata, per cui tutto sommato, insomma, l'occhio vuole la sua parte, vedete come sono in realtà arroccati, questo è è Porto Rico, è ubicato bene, è costruito bene Porto Rico, Porto Rico, ripeto, o ti innamori o lo odi, perché tantissime persone preferiscono la pianura, preferiscono avere le case a file, come un po' il nostro disegno geometrico, schematico, italiano, che ci sta poi alla fine, perché piace anche a me, se devo essere sincero, qui è tutto diverso, qui è stato tutto creato sulla montagna, non appoggia alla montagna, perlomeno solo la base appoggia alla montagna, la schiena è staccata dalla montagna, non si può fare un blocco con la montagna, sono quasi all'ombra per, spero, che sono di essere quasi all'ombra, appunto, per farvi vedere un po', però, credo che la diretta di oggi, ragazzi, rimanete in linea, accendete tre, quattro cellulari, la televisione, tutto quello che volete, mandate i cuoricini, mandate i mi piace, credo che la diretta di oggi sia veramente di vostro gradimento, mio lo è assolutamente, è bellissimo, vedete, incominciamo da una sensazione di luogo di mare, un po' chiuso, la baglietta, eccetera, eccetera, ci andiamo a aprire il, come posso dire, il respiro, l'anima, il pensiero in oceano aperto, oceano atlantico aperto, guardate i colori, effettivamente incominciano già a cambiare, le profondità iniziano ad essere maggiori, ma i colori sono fantastici, abbiamo un pezzettino da fare sul mare prima di riuscire a vedere dall'alto Amadores, ma cercheremo di farlo come cercheremo di trovare un pochino di ombra per potervi far vedere da vicino il tutto, vedete, c'è un secondo passeo, ve lo faccio vedere, senza cadere da qua, vedete, c'è un secondo passeo che si può percorrere e si va fuori al porto, avremmo potuto prenderlo, però sei più basso, cioè non c'è nessun problema ad attraversare lì, prendere quel passeo, lo prendiamo poi al ritorno, adesso cerchiamo invece di vedere dall'alto quello che ci riserva appunto questa meravigliosa zona, vedete le pietre, passiamo un po' anche come geologi, qua è rosa, non è più nera, non siamo ad Arinaga, comunque la crosta insistente scura, qui cominciamo a avere la pietra rosa, per cui zone dove si capisce che il clima è decisamente migliore, le temperature sono più alte dal tempo dei tempi, da quando si sono praticamente strutturate dalla crosta lavica le montagne, in realtà il sole ha avuto tempo di cuocerle, ricuocerle, ricuocerle, è proprio la parte bassa oltretutto la più chiara, vedete, e non è nemmeno ferretto, perché non è rossa, è proprio rosa, chiaro, ci deve essere sicuramente una componente di ferro all'interno, ma ripeto, sarebbe comunque stata totalmente nera se non avesse avuto il clima a suo favore, il clima che appunto vi spiegavo prima, c'è questa sud, ecco perché quando nominiamo in sud lo fregiamo di essere il luogo invernale migliore al mondo, è sverda, allora andiamo a vedere i nostri messaggi se riusciamo a leggere qualcosa, un attimino, sono tantissimi, ma veramente, veramente tanti, siamo in diretta, ancora un centinaio, Marino San Pietro, allora, in questa zona un'abitazione per due persone che costo ha di media Francesca Mastro Donato, allora Francesca, dalle 700 euro a salire Puerto Rico, trovi qualcosa che non sia eccessivamente grande, sarebbe tra virgolette anche un po' il momento, perché tantissime case che erano vacassionali, in realtà sono state adibite a residenziale, proprio per andare a portare a casa la pagnotta ai proprietari di casa, e per cui guardate che colori, guardate che mare, guardate che meraviglia, stupendo, vedete la pietra rosa che vi dicevo prima, guardate che fantasia ha avuto la natura per andare a creare costi di questo genere in una zona dove le montagne si sono create con il magma, con tutte di lava, guardate che meraviglia, guardate che splendore, ovviamente dobbiamo comunque dire che stiamo parlando di Oceano Atlantico, una zona assolutamente non inquinata, una zona dove l'acqua è limpida e pulita, veramente, veramente, veramente tantissimo, anzi direi in maniera eccezionale. Allora, se non troviamo però ombra diventa, sono riuscito a rispondere alla nostra amica ma comunque adesso trovo l'ombra e vedrete che riuscirò anche a rispondere ai messaggi. Portate pazienza, godetevi, telefonate ai vostri amici, lanciate cuoricini mi piace, chiamate tutti per collegarsi appunto alla pagina di Vivere le Canarie se non ci sono mai stati mettete mi piace e entrate in diretta e potete anche voi godervi la passeggiata che porta da Puerto Rico a Mogan questo è Gloria Palace è uno dei due l'altro più bello ancora è più avanti proprio sopra Amadores Amadores che abbiamo nominato spesso e nominiamo spesso credo che proprio l'altra settimana il nostro Claudio avesse addirittura fatto una diretta proprio dalla spiaggia di Amadores io sono un po' più camminatore e preferisco addirittura insieme a voi fare un tratto che vi porta da una località all'altra in modo che riusciamo a capire là dove non si è fermato appunto l'obiettivo l'obiettivo che possa essere la spiaggia che possa essere una piazza che possa essere vedete che strada dobbiamo fare abbiamo un bel giro da fare dobbiamo andare oltre quella curva abbiamo tutto mare fino a là per cui vedete tanta buona volontà da parte nostra per documentarvi in realtà in diretta in diretta non in differita ma in diretta in differita se voi non avete avuto il tempo per soffermarvi e la volete guardare dopo ma in realtà noi in diretta vi facciamo vedere il tragitto che si può fare a piedi guardate che meraviglia cioè non hai assolutamente nessunissimo problema puoi attraversare costeggiare l'isola su questi meravigliosi passei questa è una zona veramente molto molto bella in realtà vivendo al sud tutta la parte di tempo libero viene normalmente ad essere vissuta a ovest cioè per il tratto di strada che sul tratto di strada che ci ha portato fino a Porto Rico e da Porto Rico in poi perché da Porto Rico in poi abbiamo Madore subito prima di Porto Rico avevamo Anfi eccetera 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 fino ad arrivare a Mogan il paese con il clima migliore al mondo vedete la muraglia cinese lunga ragazzi la passeggiata è di tutto è di tutto rispetto per cui chiamate gli amici dite di collegarsi facciamo numeri condividete mi raccomando condividete alla fine della diretta ve la sono meritata condividete più che potete quando finite la diretta cliccate condividi condividi tutti almeno avremo un bel po' di condivisioni e possiamo far vedere anche agli amici che non ci conoscono effettivamente quale missione si è messa in testa lo staff di vivere alle Canarie l'ho definita missione perché sicuramente tutto questo esula da quello che è la parte appunto di agenzia questa ragazzi passione passione per il mare passione per come posso dire parlarvi raccontarvi qualcosa ma insieme condividere quello che viviamo sia io Claudio Piero Pier David che presto riprenderà fare le dirette da Fuerteventura in realtà lo sentiamo proprio abbiamo proprio la volontà di condividere con voi quello che in realtà noi vediamo tutti i giorni guardate che meraviglia c'è un passaggino per scendere lo vedete quel sottopassaggio vicino a quel semaforo si viene fuori in quel buco e lì potete tranquillamente guardate ci sono anche delle grotte vi portate le vostre cose eccetera eccetera sono già stanno arrivando se vedete grosse borse se vedete pasta al forno se vedete cibarie varie ovviamente sono tutti i personaggi di Las Palmas che hanno deciso di venire appunto a fare il bagno in un tratto del genere guardate che meraviglia cioè non è esattamente sempre così perché in tante zone la roccia è scura l'acqua è bella è chiara però se la roccia è scura ovviamente non ti aiuta nell'effetto qui abbiamo la roccia rosa ed ecco i fondali che assumono un aspetto totalmente differente guardate che meraviglia vista dall'alto io non vedo i cuoricini mi piace perché non vedo neanche il telefono tra un po' però io spero che questo tratto a parte la passeggiata e la strassudata di Enrico però qua siamo veramente al top cioè un tratto di mare superbo non userei non l'ho forse mai usato questo termine però francamente è proprio superbo arrivare con una moto d'acqua scendere come hanno fatto i ragazzi appunto su queste rocce venire qui a fare il bagno a passare una giornata a passare più tempo perché nel momento in cui capisci come ti puoi muovere che strade fare non costandoti poi oltretutto nulla perché non hai da pagare nulla per venire in zone di questo genere per cui se tu ti apparti sotto queste rocce puoi pescare non è che ti infili sotto le rocce ma sotto le rocce c'è il pesce di sicuro e per cui con la tua compagna con la tua fidanzata con tua moglie con chi vuoi ti metti bello tranquillo e ti fai la tua bella pescatina e mentre la tua tua moglie e la tua fidanzata fanno il bagno e prendono il sole appunto una bella tintarella che sarà probabilmente meno della tua che stai pescando perché pescando ragazzi miei la prendi per bene la tintarella vedete come si sono non assembrati assembrati ma però comunque sia un po' di gente in realtà c'è vedete il parasailing pronto a decollare fra un po' qualcuno si divertirà dall'alto è stupendo veramente bella la costa questo tratto la costa ovest è veramente incredibile è veramente stupenda guardate il mare è difficile parlare di altro di fronte ad uno spettacolo del genere poi per persone come me che amano il mare ovviamente la vista cade lì non c'è niente da fare assolutamente guardate guardate che meraviglia vedete poi chiaramente qui alla grande hanno perso il costume è arrivato un colpo di vento hanno perso il costume tutti per cui questa è una zona da da calendario pirelli come vi dicevo senza essere chiaramente arrivati nelle spiagge più importanti o non essere addirittura entrati nella spiaggia di Porto Rico direttamente vedete si prendono le scalinate questa addirittura è stata chiusa probabilmente era troppo ripido particolare ecco vedete ma i ragazzi scavalcano tranquillamente per andare giù vedete c'è questa specie di scala chiocciola guardate le ragazze agilissime via la grande vedete prima dei maschi ma cosa volete farvi dei maschi le donne sono sono le le numero uno guardate vedete guardate che meraviglia ecco qua tuffo in queste piscinette naturali incredibili bellissime non ve le avevo ancora fatte vedere queste cose dite la verità dove sono i cuoricini dove sono i mi piace e certe cose ce le teniamo per noi vedete la scala che le ragazze super avventurose temerarie vedete tranquillamente vedete guardate che bello che bella gioventù che si diverte senza spendere un euro anche perché il canario insomma per spendere un euro non è che proprio 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 sia avvezzo come dice mio fratello Piero per spendere un euro il canario insomma non commenterei positivamente la voglia di spendere denaro da parte dei canari vedo messaggi vi posso garantire che non vi posso rispondere devo trovare ombra poi trovo ombra prendo fiato e vi rispondo li vedo passare anche messaggi belli lunghi vi ringrazio magari Piero Alessandra Maurizio date appunto informazioni ai nostri amici che sotto il sole così a picco i riflessi ingannano per cui i riflessi sullo schermo del telefono diventano pressoché come posso dire non permettere di leggere quello che c'è scritto un bel pezzo l'abbiamo fatto però lo stiamo comunque continuando oggi facciamo una diretta finché la nostra batteria ce lo permette intorno all'ora grosso modo io ho il come si chiama quello che conta il tempo il oh Dio mi sfuggi il cronometro naturale è la pila del mio telefono quando il mio telefono dice ragazzo guarda che qui non ce la fai più allora vuol dire che vi devo salutare ragazzo mi sono fatto un complimento ma non mi avete ancora visto oggi ma ho tagliato i capelli l'altro giorno l'altro giorno ho tagliato i capelli dove che sono che non mi vedo un attimo vedete difficile non riesco a vedermi vediamo eh sparita la telecamera no è perché non vedo lo schermo non riesco a vedere dove è la telecamera un attimo eh che cerco di capire no è troppo buio è troppo buio farei qualche qualche disastro alla tipo cappello nero come il nostro marino San Pietro l'altro giorno occhiali scuri arriviamo arriviamo tranquillamente in una zona d'ombra me ne scuso ma è assolutamente obbligatorio avere una zona d'ombra per poter gestire il tutto vediamo eh allora eccoci qua eccoci qui che ce l'abbiamo fatta ragazzi avevo schiacciato chissà cosa buongiorno sudatici sudatici eh felici perché il panorama che vi ho fatto vedere eh onestamente lo sto ammirando anch'io eh Gran Canaria eh automotivante per chi ha deciso di venire a fare le vacanze per chi come noi ha deciso di venire a viverci per chi come noi ha deciso di fare la passeggiata di sabato o farla di domenica o venire al mare o prendere la tintarella automotivante cioè non hai bisogno di pensare a niente e sarai felice per tutto quello che eh stai vedendo o stai vivendo per cui cosa aspetti chiudi tutto fai la valigia chiama Pier e parti chiami Pier e glielo dici sono Genaro Porto Pier aiutami fammi arrivare perché è arrivato il momento per cui ragazzi chiamate Pier preparate la valigia fatelo magari in un modo meno come posso dire meno di impatto meno traumatico cercate di anche perché se chiamate Pier e gli dice Pier sono in aeroporto sto aspettando che tu mi organizzi qualcosa gli viene male perché deve organizzarvi veramente il tutto giriamo giriamo che Enrico lo conoscete bene spero guardate arrivare qua moto d'acqua barchetta bagno nell'acqua qui è quasi calma è eccezionale questa è la zona dove si vedono le mante le tartarughe marine qui ci sono grosse sorprese di abitanti dell'oceano che ogni tanto si fanno vedere vedete gommoncino amici musica non so se la sentite ma musica palla sul sul molo del gommone vanno a farci il suo giro si fermeranno a Porto Rico pizzettina cenettina insomma qualcosa inventeranno là invece un catamarano il catamarano che vi porta fuori porta fuori tantissime persone ci sono scivoli ci sono trampolini eccetera anche le barche attraccano per andare appunto a prendere il sole sul catamarano e fermarsi di magari mangiare un boccone eccetera eccetera le idee sono tantissime anche per voi che magari avete una forma di investimento da voler fare eccetera eccetera comperare comperare un gozzo comperare qualcosa sostenendosi ovviamente per i primi tempi finché arriva la clientela guardate qua siete a Amadores Amadores ma la spiaggia artefatta i colori ecco perché sono caraibici perché ci ha messo la mano l'uomo e qua che cosa ci ha messo l'uomo guardate i colori dell'acqua guardate che meraviglia io ho fatto mille volte il bagno qua dietro faccio il giro completo arrivo fino a qua solo per avere il gusto di sentire sotto di me questo colore intorno a me perché in realtà è fantastico e siamo arrivati appunto ad Amadores vedete in fondo i gonfiabili la spiaggia con appunto le dive del calendario Pilelli la spiaggia e delle VIP Amadores vi faccio una confidenza dei VIP mettiamo così se no le signore le ragazze in linea dopo ne hanno a male questa è la spiaggia la spiaggia VIP si presenta di fatto veramente bene cioè è una cornice sembra la pista di un circo con intorno tutte le persone che ti stanno a guardare se sei in acqua se ti stai rinfrescando se stai godendo di questa sabbia bianchissima che vai a trovare sul fondale eccezionale veramente molto 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 bello e tanto per poter porgere nuovamente i saluti al mio amico Andrea Asietti Andrea ha iniziato proprio a lavorare in questa spiaggia come soccorrista con il figlio guardate che meraviglia non scenderemo fino in fondo vi spiego il perché perché non so se saremo in grado di risalire perlomeno io non so se sarò in grado di risalire fino a qua abbiamo già fatto un bellissimo pezzo ah non ho girato la telecamera io sto commentando è un attimo sto commentando alla grande sto commentando alla grande quello che si vede no? esageratamente vi sto dicendo vi sto facendo vedere i fondali vi sto facendo ma in realtà la telecamera era girata sul mio volto no? non è così che funziona guardate che meraviglia guardate che meraviglia bello 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 bellissimo vedete questa è Madores vi dicevo proprio come se fosse la pista di un grande circo stupendo meraviglioso vedete l'altro Gloria in fondo c'è la Madores Beach Club con piscine d'acqua di mare eccetera eccetera in tour vi porto sempre anche perché alla reception c'è una bellissima ragazza e non mi dispiace sicuramente vedere ma farla vedere anche a voi perché è veramente veramente incantevole e un po' tutto vi dicevo però cioè tutti i personaggi qua a Madores vengono appunto i personaggi un po' VIP ecco se vuoi venire in un posto dove vuoi fare la tua figura dove puoi essere servita addirittura qua c'è Pizzamare proprio nel primo tratto qua sotto abbiamo dove vedete quei due ombrelloni gialli ecco praticamente sareste a ridosso di Pizzamare dove andare a gustare di tutto non soltanto la pizza loro hanno dei gourmet hanno degli affettati hanno dei dei taglieri hanno ma fanno di tutto io l'ultima volta che ci sono stato sono stato obbligato tra virgolette a mangiare una pasta allo scoglio che non vi dico che cosa era però ragazzi venitegli a trovare perché ne vale veramente la pena chi non si volesse sporcare i piedini ha un'alternativa vedete i solarium per cui potete tranquillamente prendere la zona solarium senza nessunissimo problema superato Amadores vedete quello in fondo è Taurito e successivamente a Taurito abbiamo Moghan rivediamoci un attimo un po' cornici di fiori da tutte le parti è molto curata questa zona l'ovest è veramente molto curata vediamo un attimo vedete cerco se riesco a entrare sotto questa pianta in modo che ho un po' d'ombra per guardare i messaggi chi mi vede me ne frego allora un attimo vediamo allora a vivere le canarie sì sì crediamo tutti Emanuele Lomonaco spiaggia sovraffollate allora Andrea Tardivo ho un sogno vivere in una barca a vela attraccate in un bel posto con quei bei paesaggi che riuscite a farmi vedere ma lo puoi fare volere potere Umberto Milani bellissimo sei a Damadores Nadia Boscolo ti sei dato parecchio sei meraviglioso allora poi Luigi De Felipe bellissimo vivere le canarie obbligatorio bellissimo sembra una cartolina è bello ragazzi posso dirvelo in piena sincerità ho ho voluto farvi un se mi posso permettere un regalo sono tratti lontani eravamo in ufficio impegnati Piero ma non c'entra per voi questo e l'altro gira la telecamera grazie ah perché mi stavi guardando troppo hai perfettamente ragione buongiorno Davaredo Davaredo Maurizio Bianchi io sono di Seregno ma Maurizio ma grande abbraccio manda un bacio che con un soffio arriva su Seregno Viviana Cappelli grazie Nadia Boscolo sicuramente pensi di farci vedere il mare esatto hai ragione invece vi facevo vedere il blu dei miei occhi che non sono neanche blu allora Enrico vediamo solo te gira la telecamera avete veramente ragione ma ragazzi ma da me dovete aspettarvele queste cose cioè è implicito che ogni tanto poi vi rispondo a tutti gli altri messaggi e vi rispondo dopo la diretta quando ritorno in ufficio o dall'ufficio a casa di Rinaga assolutamente vi rispondo ma voi dovete queste cose fanno parte delle dirette di Enrico lo sapete benissimo che è così però chiaramente chiedo scusa avevo proprio dimenticato la telecamera vi faccio rivedere però eh vi faccio rivedere guardate che presa da qua prima guardavate me quando siamo arrivati in questa posizione chi vi ha detto di guardare me guardavate il mare senza lamentarvi scusate eh allora guardate guardate che meraviglia guardate spiagge sopravvollate ovviamente è sabato la gente vuole andare al mare ragazzi vuole andare al mare sedersi al tavolino fritto misto pizza taglieri eh colonnata eh prosciutto crudo di Parma eh pancetta insomma i nostri amici eh di Pizza Mare sanno veramente fare il loro lavoro e vi posso garantire che andare a trovarli è alla grande anche perché la cucina è buona però ogni tanto assaggiare qualcosa di italiano non è male esatto per esempio in questo momento noi a Milano abbiamo un salame che chiamiamo paesano no? di grana grossa insomma quattro fette con l'amichetta con l'amichetta le mangerei volentieri anche vedete vedete è di tranquille le persone sono in giro ho soltanto 18 km per ritornare all'auto ma non fa nulla andare tornare attenzione sono sempre due paesaggi differenti la prospettiva cambia cambia notevolmente per cui se vi piace di più andando verso Mogán quando venite fate solo la strada che va verso Mogán se vi piace di più arrivando da Mogán facendo Amadores andando verso Porto Rico fate solo quella strada per cui alle Canarie c'è anche la scelta di che strada prendere cioè due parole e ho detto tutto diceva Totò no era Peppino di Filippo probabilmente che lo diceva Totò credo che sia più documentato Piero sulle battute dei due geni unici al mondo che erano Peppino di Filippo e il principe Antonio di Curtis detto Totò Napoletano per cui in questo momento tutti i napoletani che e se lo meritano e se lo meritano perché Genova ha avuto Gilberto Govi il Piemonte ha avuto Macario insomma Franco Franchi Ciccio Ingrassia hanno avuto le Sicilie insomma abbiamo dei Bela Puglia ha avuto il nostro Lino Banfi ogni epoca sicuramente ai suoi però Totò è Totò allora guardate guardate che meraviglia rivediamo l'abbiamo appena visto però lo vediamo da una prospettiva diversa prima tutte le signorine che avete visto di schiena adesso le vedete tutte a petto nudo adesso tutti i maschietti lì a dire se Enrico ci fa vedere effettivamente effettivamente ve l'ho detto è bella gente cioè ci sono certe fisicate che ti fanno veramente mettere vergogna nel senso quello che va detto va detto persone che sono nate su queste isole prevalentemente sempre attive un'isola per loro è stata anche un'isola dura quando addirittura non arrivava l'acqua in queste zone o arrivava magari con il contagocce oggi ovviamente il progresso ha portato tutte le comodità che noi generalmente riteniamo utili per passare un'ottima vacanza o addirittura per chi avesse voglia di fare una bella perlustrazione anzi chiamate Pier per informarvi su quando e come poter venire alle Canarie e passarci la vostra vita cambio vita vado al mare basta chiuso noi l'abbiamo fatto chiuso vado al mare non mi interessa poi la benzina costa meno bene costa di più vado in giro a piedi ma il mio obiettivo è quello di andare al mare al clima eccezionale sole tutto l'anno sorriso tutto il giorno da parte di tutti non è assolutamente poco ricordatevi quello che vi ho detto prima che qui il pezzo sopra se lo dimenticano ricordatevi sempre le mie parole un attimo ah no no ha già ha già risolto quando da lontano vedono i video in realtà risolvono molto velocemente sì perché ragazzi si vergognano davanti a un telefono capito vanno a petto nudo al supermercato escono attraversano la strada poi da lontano vedono un telefono puff immediatamente ed è giusto è così non c'è niente da fare guardate vedete tre amiche belle tranquille che fanno il loro bel bagno e anche un'ottima attività fisica ragazzi è consigliabile per noi che 25 anni non li abbiamo più prima dicevamo 20 adesso siamo dovuti arrivare a 25 perché ragazzi il tempo passa e la soglia d'allarme incombe ecco qui le ragazze che avete visto prima hanno attraversato tre secondi loro hanno scavalcato senza nessun problema vedete tutti scendono con i loro gazebi con le loro poltrone con è fantastico ma guardate che meraviglia ma guardate che splendore allora qua vedo allora Maria Chiara Zorzoli quest'anno vengo in avanscoperta e poi tra due anni mi piacerebbe trasferirmi speriamo e inizio a capire come come gestirti portati avanti secondo me portati avanti perché adesso è un momento di flessione questo covid lascia presagire dei cambiamenti che secondo me neanche tanto ci saranno ma poi dopo riesploderà e per cui oggi è possibile trovare determinate situazioni abitative magari fare delle perlustrazioni con veramente pochi soldi con 1500 euro dove persone una settimana volo aereo trasferto aeroportuale casa auto due giorni di tour consulenze in ufficio il covid non ha nemmeno come posso dire non ha permesso nessuno di chiedere qualcosa in più del proprio lavoro per cui noi lavoriamo con prezzi che ragazzi miei sono prezzi di 5 anni fa sono prezzi del 2016 e continuiamo su questa linea per cui insomma non approfittarne è veramente un dispiacere un peccato ma Piero la gente ciocca bene allora vediamo Maria Rosa Ferrari io le dico che in Italia c'è il mare e non è il caso di andare alle Canarie ma in Italia c'è un mare bellissimo probabilmente signora lei è entrata nella diretta magari non so diretta iniziata e non ha si è persa tutti i complimenti che io ho fatto all'Italia io sono italiano viva l'Italia ci mancherebbe guai chi me la tocca quanti mesi però lei va a fare il bagno in Italia signora per quanto tempo può andare in spiaggia qua lo fai tutto l'anno è subito fatto cioè c'è un proprio una differenza di proporzione è completamente differente nel modo più assoluto cioè non non è che io sto facendo vedere il mare come una cosa unica alle Canarie io sto facendo vedere il mare perché le Canarie lo posseggono come lo possiede Sorrento come lo possiede Tropea come lo possiede Palermo come lo possiede Taormina Capri lasciamo perdere ma nessuno ha nulla da dire non mi credo anzi guardi la sfonda è una porta aperta però abbiamo a parte i costi per esempio adesso quest'anno c'è il promuovo le vacanze made in Italy ma voi avete i costi ve li pubblico io su Facebook se volete sapete che noi siamo molto veloci a fare ricerche vi metto tutti i costi degli alberghi delle medie alberghi la confcommercio cosa ha scritto eccetera eccetera certo per non rimanere a casa ci si andrà ma poi mi racconterete settembre ottobre mi racconterete effettivamente quali saranno state le vostre esperienze le Canarie quali volete che siano le esperienze le Canarie sono queste i costi sono questi tutto l'anno il clima è questo tutto l'anno nel semplice però capisco perfettamente il pensiero della nostra amica e ricopro soprattutto con quali servizi fai il bagno in Italia esatto allora vedo tutto l'anno il mare allora Maria Ferrara ci sono anche altri diretti non è il caso che lei venga a fare è giusto ha ragione Pierangio e Piero allora Maria Chiara Zorzoli vedo tutto l'anno il mare niente nebbia e niente neve che tristezza non lo so non ho capito il messaggio però magari al sole incomincio a avere anche un attimo di caldo e non o è stato scritto male piuttosto di dire delle scemate non non lo salto allora Bruno Battistuzzi grazie Piero del messaggio ci manchi stai scrivendo allora io ve l'ho sempre detto mi soffermo così perché ne vale veramente la pena sottolineare che questo è il nostro clima di tutto l'anno quello che io vi faccio vedere adesso ve lo posso far vedere a dicembre a gennaio a giugno a settembre a novembre senza nessuna differenza posso fare al mare tutto quello che voglio a gennaio a marzo aprile a novembre e a dicembre cioè questo è il il bello è la cosa principale che fa vedere le canarie nel loro nel loro splendore chiaro che se le canarie pioveva tutto l'anno avessimo avuto un clima di quelli orribili da dove assolutamente era impossibile raggiungere il mare ma io penso che anche i canari stessi alla fine avrebbero deciso di andare a vivere da un'altra parte allora Valeria Milena Solimar a Puerto Rico Puerto Rico praticamente il passeo che porta da Amadores a Puerto Rico l'abbiamo fatto da Puerto Rico per cui da Puerto Rico centro siamo saliti sul passeo e siamo arrivati ad Amadores e ora stiamo tornando da Amadores verso Puerto Rico e non perdete l'occasione appunto di continuare ad ammirare questo lato di mare che ha dei colori veramente incredibili poi la fisionomia delle canarie a queste montagne ruse in questo caso qui sono rosa hanno strati calcarei totalmente differenti si vedono le centinaia di anni tra uno strato e l'altro è chiaro voglio il verde voglio vedere le stesse identiche cose ma le voglio vedere più definite su chiaro su chiaro vado alle Dolomiti ma ci mancherebbe ma ci manchia stupendo bellissimo assolutamente non avrò il mare non voglio la moglie mora non avrò la moglie bionda se la voglio bionda devo farla depilare tutta e tingerla cioè cosa devo fare devo prendere come posso dire delle decisioni di un certo tipo è chiaro che chi ama il mare capisce molto il mio il mio spirito il mio modo di interpretare tutto ciò allora il primo messaggio è arrivato allora vediamo allora Viviana Cappelli signora Maria è nel gruppo sbagliato arrivederci esatto sì io vi ringrazio ringrazio veramente tutti se nel caso siete tutti assolutamente autorizzati da me e da Piero siete autorizzati a rispondere in maniera assolutamente pertinente anche perché soprattutto io non riesco a vedere tutti i messaggi sapete benissimo che al sole portando già la gaffa e essendo un po' miope con i riflessi che arrivano sullo schermo alla mia età mettete tutti insieme tutte queste questi come posso dire tutte queste particolarità e ingredienti e viene fuori quello che viene fuori per cui portate assolutamente pazienza siamo quasi arrivati al prossimo messaggio del del telefono che mi dice che la batteria appunto sta finendo devo lasciarvi credo vi sia piaciuta spero vi sia piaciuta la passeggiata di oggi la diretta di oggi inconsueta un tratto sotto il sole anche abbastanza difficile da fare per cui deve proprio piacerti passeggiare sono le sensazioni che ti danno questo tipo di possibilità c'è chi come il signore utilizzerà sicuramente questa strada per un benessere fisico suo personale io personalmente ho tanti posti dove andare a passeggiare ma davanti a casa mia è fantastico è meraviglioso però come facevo a farvi vedere uno scenario di questo genere teniate conto che sono poche le zone qua e là in giro per il mondo non parliamo della solita Italia dove vengono lasciati naturali certi luoghi perché tutto poi dopo deve essere costruito deve essere appunto deve diventare fabbrica di denaro eccetera eccetera per cui sotto questo tipo di aspetto andiamo anche a fare come posso dire un'analisi positiva in questo tal senso se la ritenete un'analisi positiva io la ritengo così e per questo ve l'ho passata appunto come l'ho pensata vedete meraviglioso bellissimo le scalinate che scendono ti metti qua a pescare è stupendo è veramente bello hai anche un tratto dove riesci a prendere un filo d'ombra vedete si scende da quelle scale hai questa piazzola sembra un anfiteatro vedete c'è un punto dove c'è l'ombra e pescate da qua ragazzi miei è fantastico veramente è fantastico siamo tornati a Puerto Rico siamo saliti da metà del passeo basso l'anello del porto e stiamo scendendo invece direttamente al porto per cui bella veramente bella passeggiata ragazzi il secondo messaggio è arrivato giriamo la telecamera vediamo se ce la facciamo ok è arrivato il secondo messaggio ragazzi la batteria ci sta salutando per cui con Enrico da Gran Canaria e da questo mare incredibile tratto tra Porto Rico posto molto molto carino molto particolare e Amador esplaya dei VIP Enrico con un grande bacio vi saluta condividete condividete e chiamate Piero ciao grazie Piero